musicisti partiamo con la musica dicevo che festeggiamo il rolling 20s quindi gli anni ruggenti e alla batteria c'è il ruggente alberto botta era in ritardo pizzicato bene al contrabbasso stefano napoli la chitarra si miscela perfettamente con il vibrafono e a fare tutto ciò abbiamo fabrizio guarino abbronzatissimo col bianco risalta bene poi al vibrafono questo meraviglioso strumento claudio piselli al pianoforte il nostro teddy wilson bianco il maestro adriano urso e poi c'è il leader della band il migliore emanuele urso un'altra 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 Mesmo un'altra 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 Grazie a tutti. 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 Benvenuti sempre numerosissimi, freschissimi. Sta bene stasera, molto bene. Adesso con questi grandi artisti suoniamo un brano di Benny Guzman che si chiama Hai Ia Sofia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.